Direttore, situazione coronavirus è una situazione difficile soprattutto per l'artigianato? Sì, intanto buonasera a tutti voi. La situazione è difficile per tutto il sistema delle imprese e per tutti noi, per le famiglie, per tutti noi che viviamo una situazione veramente difficile. Come associazione noi abbiamo cercato e stiamo cercando di dare le risposte ai problemi più urgenti per le imprese e quindi il credito, abbiamo attivato delle procedure standard per poter presentare domanda per far slittare le varie scadenze di rati, finanziamenti mutui, poi stiamo attivando tutte le procedure per far partire la cassa integrazione per il personale dipendente, sia cassa integrazione ordinaria, in deroga e quella speciale per gli artigiani e ci stiamo attivando per dare la possibilità a tutte le imprese, a tutte le partite IVA, a tutte le famiglie e a tutti i cittadini di poter utilizzare il nostro patronato per poter chiedere tutto quanto le forme di sostegno che sono state previste per questa grave emergenza. Ecco, si avvicina l'estate, probabilmente a risentire di questa situazione sarà anche il turismo. E' evidente che il nostro territorio ha un settore trainante che è quello turistico e quindi questo fino ad oggi ha prodotto una crescita a doppia cifra, sia in termini di occupati che in termini di reddito prodotto. E' evidente che questo provocherà dei problemi che tutti dobbiamo avere ben chiaro di fronte, quindi dobbiamo insieme a tutti coloro che hanno una qualche competenza cercare di capire come far sopravvivere il sistema in questi mesi che saranno durissimi e dare la possibilità poi di ripartire. Io spero che con l'estate si possa in qualche maniera rimettere in moto la macchina turistica della nostra provincia.